Grazie a tutti. Appena appena insaporito con dello scalogno, un po' di basilico, appena appena un po' di limone, dell'olio d'oliva giusto, discreto e sopra decorato con appena appena un velo di panna acida e delle olive e delle uova di trota. Una cosa sfiziosa che vedo che è stata molto molto apprezzata, poi con delle bollicine di accompagnamento non si sbaglia mai. Grazie di essere a corsi numerosi a Cortina. Vi aspettiamo poi per le serate domani sera le cene di gala, ci saranno dei piatti veramente sfiziosi. Grazie a tutti.